Fine. Come fine? Il finale non c'è ancora, siamo arrivati fino a qui. Quindi tu mi stai dicendo che è tutto vero? Durante i casting abbiamo visto tante attrici, alcune di loro anche più brave di te. Ma Claudio sta cercando qualcosa di diverso. Non voglio un'assassina su uno dei miei sette, ma io so che tu non lo sei. Perché no? Beh, non hai la faccia d'assassino. Che faccia hanno gli assassini? Viviamo già in un mondo fatto di menzioni. Non voglio creare trafizione e una finzione. Tutti pensiamo solo a noi stessi, non credi? Questa storia lo dimostra. Questa storia lo dimostra.